Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su Leontube, eccoci in questo video per andare a vedere il round 1 del Grand Prix della Ares S1 termina tra un giorno e 21 ore ancora, quindi abbiamo sempre due giorni termina lunedì mattina, vediamo se siamo andati in un T5, presumo di sì, un T4, vediamo un po' T3, T3, ok, abbiamo fatto un tempo quindi troppo alto e siamo finiti in un T3 con questo account in cui andiamo a giocare a livello 0 la nostra auto ok, abbiamo molti avversari tosti, quindi qui diciamo che la chiave la sogniamo magari riusciremo a vincerla nei pacchetti, andiamo a vedere un po' i premi qui purtroppo era uscito un tempo un po' troppo veloce i premi, i primi 3 la chiave, e qua 15 pacchetti, speriamo di arrivare nei primi 5 ma sarà dura con l'auto livello 0 perché senza potenziarla non si va da nessuna parte premi allenamento un progetto fino a 60.000 crediti, 3 buste dove poter trovare dei progetti e 15 gettoni facendo 4 acrobazie, andiamo quindi a fare i nostri allenamenti e poi il nostro run, come sempre 2.206 il nostro livello siamo a 0 progetti, dovrei avere un potenziamento, ho fatto l'altro giorno che sbaglio credo dopo guardiamo, intanto andiamo a vedere pista corta, qui va detto con una stella qualcuno riesce a fare anche 38.5, quindi ragazzi anzi anche 37 basso quindi ragazzi c'è da volare, noi qui staremo sopra il 40 ok questa è la quarta, facciamo un'altra 42.380, qui abbiamo perso tempo a fare le acrobazie dovrei riuscire a fare 40 alto 41, vediamo e un progetto l'abbiamo preso ricordando che l'auto è livello 0 esatto, non l'ho potenziata per nulla, quindi andiamo avanti a fare i nostri allenamenti altri 3 allenamenti e poi andiamo a fare il nostro time attack intanto hanno già girato con 49.66 ok quindi dovremmo fare un 40 alto perché il fantasma che stiamo seguendo è diciamo è battibile ha un'auto migliore lo vediamo dall'accelerazione poi sbaglia strada agrobazie fatte oh 43, 40 a basso si non malvagio come tempo vediamo se abbiamo preso tutti i premi magari facciamo solo 3 no si si ok ok allora vediamo se riusciamo a fare vabbè si possiamo farne comunque 4 adesso andiamo a fare l'ultimo facendo tutti gli obiettivi o perlomeno cercando di fare tutti gli obiettivi ok diamo 6 decimi al presunto primo ma qui ragazzi c'è anche gente che conosciamo che scenderà molto di tempo ho mancato anche ok danica ok allora ho fatto la professione ok da 4 da 4 per tempo verso 4 gioco salta la tanca ok 42,9 andiamo a fare l'ultimo prendiamo prendiamo il nostro secondo progetto completando tutti gli obiettivi e speriamo anche nel pacchetto dai niente da fare va bene lo stesso no ah non ho fatto il tempo incredibile ok ok lo andiamo a prendere ora ho guidato troppo piano ricordiamo che qui come dicevamo i tempi con beh no con una stella potenziata 38,6 38,6 con una stella quindi dove troviamo di quindi non male 40 basso senza potenziamento sono quasi 2 secondi no spero che la pista è corta la pista è corta però diciamo rispetto agli alieni un 40 basso potenzialmente non è male ci siamo migliorati leggermente e sicuramente sappiamo che si può fare ancora qualcosina di meglio vediamo se ci riesce bene in gara nel nostro tentativo o se come al solito piazzeremo un bello schianto contro il muro solo 25 progetti per passare alla stella successiva qui ragazzi auto con chiave quindi si va a vincere la chiave in palio c'è la chiave ok perfetto andiamo a fare il tempo di gara il nostro tempo di gara eccoci qua vediamo che tempo riusciamo a fare 49.96 il nostro avversario 42 qualcosa quindi quasi 750 decimo il migliore a quel tempo lì ma siamo secondo e otto sopra al tempo alieno più o meno il tracciato è questo male mi è scivolato mi è scivolato in drift dato e il 47 peggioriamo però va bene sappiamo che abbiamo ancora mezzo secondo da fare qui ho fatto qualche errorino e vedremo se poi riusciremo a migliorarci nell'allenamento però per il momento ci andiamo a godere il nostro primo posto provvisorio che sarà un pessimo tempo ma vedremo gli avversari che tempo riusciranno a fare vedremo poi durante il corso voi ragazzi mi raccomando mettete un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale lasciate un commento e mettete la campanellina cliccate la campanellina così vedrete quando pubblicheremo i video del Grand Prix e tutti gli altri video del canale quindi ci vediamo presto saluti a tutti ciao 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 ciao